Parlare di normalità in un momento come questo, in cui l'Italia è un po' sotto attacco da un nemico subdolo particolare chiamato coronavirus, dicevo parlare di normalità è ovviamente difficile, molto difficile, ma poiché né tu che stai guardando questo video né io possiamo farci assolutamente nulla e speriamo entrambi in quella che la scienza ci possa permettere, o meglio che gli scienziati che noi abbiamo in Italia, che sono veramente straordinari, efficaci da questo punto di vista, quindi abbiamo fiducia in loro, sperando che loro in tempi molto brevi possano dunque trovare una cura, un vaccino, un antinodo per questo virus che sta mettendo veramente a dura prova ogni italiano. E allora ti dicevo, ho pensato da coach, da formatore, da esperto di comunicazione, ma soprattutto la mia anima motivazionale mi ha portato a pensare che se facevo un video al giorno come questo, un piccolissimo video, avrei potuto aiutare qualcuno a spostare il proprio focus mentale dal problema, coronavirus, dalla paura, dal timore, a qualcos'altro, magari ad arricchirlo propriamente, perché consiglio in questo video, in questi video, meglio ancora ce ne saranno altri che seguiranno, la lettura di un libro. Ora, la materia prima non manca nel mio studio, come puoi vedere dietro alle mie spalle ci sono parecchi libri, sono tutti libri che io ho letto nel corso della mia vita e sono tantissimi, oltre 870, e attingerò dalla mia biblioteca personale un libro al giorno alternandoli tra marketing e aspetto motivazionale. Oggi mi focalizzo su un libro molto particolare, che secondo me è molto, molto utile per tutti coloro che lavorano nel mondo delle professioni, liberi professionisti, non so, penso ai coach, ai formatori, ma anche ai miei amici barber, parrucchieri, all'estetiste, agli artigiani in senso generale, ai commercianti, ai piccoli imprenditori. Beh, tutti coloro che intraprendono, comunque fanno impresa, che sia individuale o che sia impresa collettiva, tutti coloro che fanno mercato, che quindi vanno sul mercato e che si devono confrontare, hanno ovviamente interesse a essere diversi, a differenziarsi rispetto a tutti gli altri. E allora, quale libro potrebbe essere il primo a essere suggerito da Giancarlo Forney? Come lettura? Beh, il libro di Al Rees e Jack Trout, un libricino perché si legge veramente in maniera molto veloce, te lo faccio vedere per bene, eccolo qua. Le 22 immutabili leggi del marketing, straordinario libro, io l'ho comprato e l'ho letto già nel 2009, fammi vedere per bene, non evitare che dica eresia, no, eccolo qua. 21 agosto del 2009, io l'ho letto per la prima volta, tra l'altro ci sono tutti i fogliettini post-it, dove dentro ci sono scritte le date in cui ho letto il libro, l'ho letto 5 volte questo libro. Paola, alla mia dolce metà, dice che devo leggere i libri molte volte perché sono un po' zuccone, non capisco bene, ma al di là della battuta di Paola, direi che io ho letto il libro tantissime volte perché ogni volta ho trovato nel libro degli elementi nuovi, delle cose che mi erano sfuggite la prima volta e accadrà anche a te, accadrà la stessa cosa. Ma perché devi leggere un libro come questo? Ripeto, ovviamente se fai l'imprenditore di te stesso, comunque se intraprendi all'interno della tua impresa, anche un artigiano, lo ripeto alle mie amiche estetiste, ai miei amici barbere, ai miei amici parrucchieri, anche voi siete imprenditori, occhio! E allora perché devi leggere un libro come questo? Ovviamente perché un libro come questo ti insegna a essere diverso, a essere diverso da tutti gli altri, a posizionarti in maniera diversa rispetto alla tua concorrenza. Il libro è straordinario, ci sono 22 concetti, 22, loro le chiamano leggi, 22 leggi fondamentali, importantissime del marketing. È il libro che io consiglio come lettura ad ogni imprenditore, ad ogni professionista, nuovamente alle mie amiche estetiste, ai miei amici barbere, ai miei amici parrucchieri, ai professionisti come me, ai coach, ai formatori, a tutti coloro che fanno libera professione, ma soprattutto a tutti coloro che vogliono essere diversi rispetto a tutti gli altri. È il primo dei libri sotto questo aspetto che io consiglierò, perché ce ne sono tanti altri, per esempio, tanto per fare un nome è quello di Marco Deveglia, un mio carissimo amico americano, cioè italiano in questo momento che abita negli Stati Uniti. Marco è straordinario, ovviamente sarà il prossimo libro che io racconterò, mi ha dato anche dei consigli favolosi proprio per emergere, per differenziarmi rispetto agli altri, ma intanto oggi cominciamo proprio con questo. Allora, ve lo faccio rivedere, Unrease e Jack Trout, le 22 immutabili leggi del marketing. Why a te se non lo leggi? Detto questo, consigliato il libro di Unrease e Jack Trout, beh, permettimi di approfittarne, ne approfitto consigliandoti anche una seconda lettura. Comunicare bene è facile, se sai come farlo. È il libro di Giancarlo Forney? Beh sì, ne approfitto sputoratamente. Dai, cosa voglio dirti con questo? Insomma, leggi, 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 tieni occupata la tua mente, fai in modo che questo momento passi velocissimamente, questo momento difficile, lo so, non possiamo farci assolutamente nulla, ne io e tu, però tu puoi fare una cosa molto particolare. puoi spostare il focus della tua mente da il problema coronavirus, paura di essere contagiato e tutto quello che ne riguarda. Quindi, il problema della libera circolazione in Italia, il problema della libertà un pochino più, come dire, contenuta in questo preciso momento, anziché focalizzarti su queste cose che sono ovviamente negative, sposta il tuo focus mentale leggendo, leggendo uno di questi libri. e, ovviamente, non farà miracoli, ma di sicuro avrai un vantaggio, avrai acquisito nuove informazioni e la tua mente sarà più ricca. D'accordo? Al prossimo appuntamento. Un abbraccio da Giancarlo Fornelli. Un abbraccio da Giancarlo Fornelli. Un abbraccio da Giancarlo Fornelli. Un abbraccio da Giancarlo Fornelli.